bene ragazzi siamo ritrovati su mario kart l'altro volta ospata asfaltato rubo nel solito gara gara nel solito gran premio io farei una vera base lunare adesso stiamo provando la sfida con i palloncini sono capito male esatto tipica su nintendo 64 quant'è la bella cioè già dovresti fare per scappare i palloncini degli altri base lunare io sono un wario io sono sempre quello di destra non so come diavolo si chiama tutti contro tutti si tutti contro tutti vediamo chi avrà meglio io trovo quattro banali eccola io ho già preso un palloncino hai colpito bebi rosalini bebi male ti ha colpito eccola lì noi ti ha colpito io trovo solo banane ma non è giusto ecco il pipito bebi male via hai colpito cupa hai colpito guaio ma vaffa ma te hai il primo palloncino che ti fanno fuori io ho preso un palloncino che cazzo sei stato a me ne ha fatto i palloncino tutti veramente sono stato sfigatissimo stavolto mi ha lasciato giù una sessantina di banane non so di cosa cupa ti ha colpito bene oh boom è una bella lì nooo sono morta mi hanno dato te la palloncina meglio così alla piuma vuole sito ha giocato con amorosa la battuta tipo 20 a 0 diciamo che non sono veramente i suoi giochi questo ma anche buonissima le pause google dettagli sì sì sono loro loro neanche l'ora sono loro loro è perché sono vario quanto mi stavo sulle palle un piaccio simpatico lui è waluigi già di più cioè quella è da malvagio il gioco della game boy di war la colonna ma va a fa maio metà ecco perché ci venirei da 30 metodi e ci metà te itali dal punteggio di un mario ma dai maio ti è colpito maledetto figlio minchia di quel peli ma ma pezzo di cacca hai colpito roi chi è roi? non lo so io cupa hai colpito mario hai colpito mario metallo ottimo questo bozer di merda che continua a rubarmi le robe ma ne è anche te e ho chi 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 sia non so sembra ci sono i cusci verdi che che si viaggia una manetta in giro quella può essere un po colpa mia continuo a trovare trovo solo che quelli cazzo mi sono anche autocolpito adesso figlio di una bandracca di mario è colpito scaletomus che miracolo il primo l'hai vinto tu bella lì vai tuttora è ancora uno spinopalloncini anche questo dipende quante gare hai impostato io fare periferia urbana sono molto dedicato a splatoon splatoon tra l'altro bel gioco per Wii esatto switcher splatoon esatto si perché vedi è molto splatoonoso questi schizzi di vernice wow mi trovo subito mario ad annosh sarebbe stato tipo figo se ti portavi in giro la vernice ecco mi sono schiantato io però vera bella piena come una mappana hai colpito Yoshi hai colpito tortos bene bene hai colpito sto cazzo wow io mi schianto intanto a caso proprio forse la prima volta che ti becco forse ma brutto figlio e va bene hai detto quello che c'ha la logna esatto che me l'ho butto io e se diventerà un po' te ma vai Yoshi the Merda mi si è sempre pesato sul cazzo io ciao sono il king il king di qua non ne ho ancora passato no no di poco non mi beccavo maio metallo ma dai mi sono beccato da solo sono un coglione ma vai maio de merda ma bastardo di un maio metallo mi è colpito tartosso ma intanto nelle esplosioni mi sono colpito un chino ma si non vuoi dare il tutto guarda una parte dove non c'è nessuno figlio di puttana hai di me mi sono colpito prima io cazzo se ho questa modalità in internet 64 io ero un eroe eh vabbè vecchi tempi delle elementari oh questo qualcuno come avanti i coni ma che panno in sta mappa sono strasfigato bene sceglieremo sempre questa allora quella di prima almeno ha dato qualche soddisfazione un altro è andato a casa figlio di una baldracca ma dai quante bombe non veramente hai tirato uno a casa e vai beccare me io non sono baby mai ah con il tubo rubi i palloncini ti ho colpito da dietro hai visto si tu se non sei igit no ah no tu come ti chiamo non lo so non mi ricordo più come si chiama Mario di merda beccato ma vaffanculo occupa di merda sono stato l'ora figlio di un anno con il guida cazzo però secondo sì perché lo meno ti avevamo colpire cioè io schiaccio in realtà poi stranamente stavolta stavolta siamo giusti anche sulla tv di solito siamo invertiti dai palazzo del drama vediamo dopo che ti ho fatto vedere quel bel film sul drama ah beh esatto ragazzi se avete prime video guardatevi dragon wars spacca esatto altro altro che filmoni da oscar questo questo l'oscar gli è pizze in gola ah proprio un massacro qua si proprio alla brutta so già che io ho una sfiga tremenda è colpito via e via rosa linda si è giù un sacco di banane mario ti ha colpito ma anch'io l'ho colpito basta ah si è appena passato in parte si ti ha fregato la tartos ti ha colpito colpito iosci ci siamo colpiti in vicenda però se non sbaglio se non se ti bechi con le tue stesse trappole banane o usci non perdi il palloncino non si vede di qua ci ho fatto tanto non c'è nessuno mario metallo ti ha colpito però io l'ho colpito a sua viso a sua viso starda di un mano così nel mucchio e mi colpisce questo a posto direi ecco Yoshi ti ha colpito Yoshi esatto c'è un sacco di banane cazzo si bevi maio ti ha colpito via magari banane gusci verdi gusci verdi ma dai bevi maio ti ha colpito maledetto che c'è adesso di sghignazzare ne ho tirati tre ne sono passati quattro dei gusci maio non ridevo ma maledetto ah Larry maledetto ecco come ti chiami ah sono Larry è colpito maio a metallo ma vai perché sei sempre quegli sfigato io beh cioè io posso essere quegli sfigato cazzo ma tutte le volte mettene sto beccato hai ostacolato male in metallo e male in metallo ti colpisce ma che non è possibile non chiedetelo non chiederti nulla è meglio è ostacolato Roy ma maio ti ha colpito ma quando ma dove è ostacolato questi cazzo di gusci guarda che infame che mi segue guarda che infame che mi segue via via vai con il boomerang devi far così ripazientare finché bastardo pace vincere la partita però siamo primi tutti 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 a pari merito quindi mi sa che chi vince la prossima vince vince tutto ok vediamo un po' chi sarà il vincitore della sera bisogna andare al palazzo Luigi oppure sì dai oppure oppure un bel dolce regno o cartodomo anche chi sta dai dolce regno ci sentiamo diabetici diabetici ma sono pistongini eccoci nel nel diabetico regno nel diabetico fai scopriare i palloncini ultima gara chi vince questa vince tutto è schiva laica bosch allora stavo con la sate sì che non ce l'ho neanche fatta a casa io l'ho visto l'ho lanciato sta arrivando sta arrivando qualcuno top lancio ho sotto giù 50 banani anch'io con sovrati tanto per cambiare ma vai a fare in cui io sì ma guario addirittura due fine sono io guai lo so le sto evitando tu bastando è davanti è davanti tutti quanti hai colpito tanto osso ma c'è c'ho tre gusci non è possibile sta cosa c'è io intanto volteggio come un deficiente è colpito iggy ho rubato un palloncino che ho perso subito giustamente giustamente colpito mario ecco c'è colpito c'è colpito baby rosalinda ma sono morti più o meno e ah è andata ma è però colpito un'altra un partita ah la vendetta di c'è di piggy ti ha colpito guastando dicevi la vendetta di chi di c'è eronico io il mio volteggia guarda eroni slagio la bombella ma vaffanculo tartoso e chi mai la può prendere si poi è anche il tuo sottotartoso ma si può farà la colpita tartoso hai colpito Ma c'era una cosa Ma non so neanche come ho fatto colpirti Perché li ho tirati a casa Tom No Bastarda Bastarda di una baby rosa linda di me Ma va a far culo Cazzo Non è possibile E vince la seconda partita La switch La vince Vuol dire che la prossima volta Fariamo una bella Esatto Vai ai risultati Vediamo Congratulation Ah si è arrivato di pochi punti Ah si Bella Pochi 5 Eh che io nella prima Nella prima ho fatto 5 Bene ragazzi Questa era la seconda sfida Su Mario Kart Precisamente Battaglia Balloncini Balloncini E alla prossima Ciao Ciao Grazie per la visione!